La barzelletta di Geppo Un ragazzo, figlio di un tizio veramente molto molto tirchio, compie 18 anni Allora il giorno che compie gli anni e il padre decide di fargli un discorso solenne lo chiama da una parte e gli fa Allora mio caro Luca, innanzitutto auguri, da oggi sei maggiorenne diventi un uomo e condividerei con noi, con la tua famiglia gioie, dolori, problemi familiari Lui fa, si papà, sono pronto a prendermi le mie responsabilità Perfetto, allora la prima cosa che devi fare figlio mio è Paga l'ultima rata della carrozzina tua